Maurizio Fabri, segretario regionale di Rifondazione Comunista. Giulio De Angelis a seguire CGL regionale. Allora io non volevo intervenire perché penso questo, leggendo l'altro ieri il comunicato in un'agenzia di questa assemblea diceva dai cento passi della Sicilia al primo passo qui nel Lazio. Io credo che la bellezza di questo ragionamento è legata a due questioni che secondo me sono fondamentali. La prima sta nel fatto di riuscire a legare in maniera seria che cosa ha significato in questo paese, in particolare per la Sicilia, la mafia e riuscire a capire come deve passare almeno dentro di noi l'idea che la mafia non è una causa. Nel senso che fondamentalmente noi dobbiamo partire dal presupposto e questo vale anche per questa regione, vale anche per questo territorio, non solamente Latina o altre città. Perché in questa regione gli interessi economici che sono mal sopportati e che vivono concretamente nella vita degli uomini e delle donne partono dal presupposto che c'è l'uso dello strumento mafioso nel sistema di potere e soprattutto negli ultimi anni nel rapporto fra la cosa pubblica e il modo in cui vengono definiti gli appalti e tutto quello che sta intorno. Quindi io mi auguro che questo ragionamento che è centrale, che non è laterale sia il primo passaggio. L'altra cosa che volevo dire è che a me sembra e quindi io sono assolutamente contento di questa iniziativa anche nel modo in cui è stata fatta. Io credo che l'elemento fondamentale su cui noi dobbiamo provare a ragionare e lo faceva brevemente anche questo appello è la centralità del lavoro e credo che noi dobbiamo anche smetterla secondo me di pensare partendo dagli errori, penso alla mia forza politica ma credo a tutte quelle presenti in questo bellissimo panorama delle forze politiche a sinistra del Partito Democratico dall'idea che il problema del lavoro in particolare nel rapporto fra la vita degli uomini e delle donne in questo paese davanti alla drammaticità dell'attacco pesante portato avanti almeno da 30 anni sulle regole del lavoro a partire dall'attacco allo statuto dei lavoratori a tutto quello che è avvenuto parte anche da un elemento fondamentale che noi non possiamo più separare l'elemento degli investimenti pubblici in questa regione e le condizioni di vita dei lavoratori. Allora mi sembra importante che questo documento metta al centro il rapporto fra lavoro e investimenti pubblici e welfare perché la centralità e la possibilità della sinistra di questo paese di provare a dare delle risposte davanti al deserto sul quale ognuno si può prendere la sua responsabilità è legata al fatto che anche nel pubblico noi non colliamo io sentivo le cose sulla sanità, sui trasporti, l'essenza fondamentale di una ripresa di iniziativa che parte dall'idea di coniugare insieme la drammaticità dei migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici che lavorano in aziende pubbliche sottopagate attraverso il meccanismo degli appalti, attraverso il lavoro nero e la condizione di quello che milioni e milioni di euro vengono investiti dal pubblico con risultati sempre più negativi rispetto alla condizione dello welfare e dei servizi sociali credo che questo sia l'elemento centrale su cui possiamo tentare e come rifondazione comunista vorremmo fare il massimo per garantire questo tipo di passaggio la seconda considerazione è questa il problema fondamentale, io non lo dico per fare la battuta a Zingaretti funziona o non funziona l'elemento fondamentale oltre alla questione della sanità io lo dico in una cosa in cui mi sono anche impegnato cioè questa regione spende come molte regioni in Italia una quantità di soldi che credo vanno dal 12-13% legata alla formazione professionale è un atto banditesco che da più anni, direi da 50 anni, in questo paese va avanti perché sono soldi dell'Europa, del governo nazionale, dei ministeri che finiscono solo da una parte per finanziare tutto il meccanismo di interessi privati sulle aziende grandi o piccole di suore, di preti, di confindustria ahimè anche di sindacati che non dà una produttività sociale a quell'elemento e quindi la condizione su cui Zingaretti, i suoi assessori legati a questa idea non hanno invertito quello che da 30 anni va avanti questi soldi non servono per qualificare i lavoratori, non vanno ai centri per l'impiego che sono l'essenza fondamentale di un paese civile per sviluppare lavoro ma vanno ai formatori detto questo per finire, rispetto a tutto il percorso legato all'idea fondamentale che ce lo dobbiamo dire che è ricostruire una forza care compagni e compagni questa forza si ricostruisce non solo alzando e io alzo la mia bandiera da comunista ma soprattutto riuscendo a capire per quale motivo questa sinistra non riesce ad entrare in quello che almeno in queste relazioni ho sentito a un tentativo di approfondimento cioè se noi non capiamo che la sconfitta nostra viene da lontano ed è stata stata la sconfitta in quel caso che spiegavo prima del rapporto fra lavoro e utenti in cui il potere economico è entrato non solo attraverso Benetton ma in varie forme e quindi io credo che sia fondamentale per noi riuscire a fare un passaggio che costruisca a partire da questa iniziativa che penso che venga anche soddisfatta costruita anche rispetto a tutte le realtà e le associazioni sociali sull'idea fondamentale di ricostruire una forza questa forza secondo me i partiti la possono dare l'importante è capire che la crisi oggi di rappresentanza non è solo legata a quello che giustamente il compagno giovane ci sottoponeva ma io credo che sia legata alla impossibilità oggi di riuscire a riprendere forza se noi non usciamo dalla logica del colpevole io credo che sia fondamentale mentre proviamo a costruire questo percorso rispetto al fatto che anche questa regione che anche i comuni hanno subito le politiche dell'Europa e dei governi nazionali e quindi noi dobbiamo ricostruire dal basso una spiegazione davanti a questo fenomeno drammatico che è stato l'isolamento in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici davanti a un sistema che gli ha tolto sia i diritti sia il lavoro ma soprattutto la capacità di essere cittadini grazie